Lab, podcast, presenta le cose belle dopo un anno in po' Bella di quest'anno, dai una cosa bella di che è successo a scuola o che ti piace di questa scuola? Giocare a calcio e poi? E basta e poi mi piace giocare a pallavolo, mi piace disegnare, mi piace dipingere, mi piace fare le attività, mi piace fare i laboratori. La cosa che mi è piaciuto di quest'anno è stata fare amicizia con le ragazze perché all'elementare stavo sempre con i maschi. Spagnolo, perché mi piacciono i verbini spagnoli e anche in lingua di... a posto di italiano e spagnolo. E la tua prof preferita? La Bonaiti. Perché? Perché la Bonaiti è la numero uno. Ed rende bella la scuola? Sì. La cosa che mi è piaciuta di quest'anno è stata fare amicizie e avere una classe più vivace di quella dell'elementare. La tua cosa preferita di quest'anno? Il lavoro di aritmetica dove avevamo fatto un lavoro di gruppo con Kenzo, io, Alessandro e Kenzo. Sull'MCD era bellissimo. Ok. Una persona che rende bella la scuola? Il prof di religione. Conoscere nuove persone. C'è qualche attività che hai fatto a scuola che ti è piaciuta quest'anno? Gareggiare. Gareggiare. Invece se pensi a un professore, chi ti ha colpito quest'anno? La professoressa Bonaiti. Allora, la mia cosa preferita di quando, della scuola che è successo quest'anno, sono i lavori che abbiamo fatto di arte, ma in particolare quello all'inizio dell'anno che era un collage. L'amicizia con le altre persone che non conoscevo. Un evento particolare? E' stata la festa di Halloween. Che per me è il migliore in scuola giocare con compagni. Mi è piaciuto che in questa scuola si fanno tanti laboratori di Halloween, di Natale, di teatro. Si fanno anche tante attività nelle materie, tipo con la professoressa Nuvaresi andremo a fare una staffetta con l'associazione Gare Uo. Con il prof. Garito facciamo le gare e c'è il teatro. Grazie a tutti.